Quando il fascismo fa riferimento al Medioevo lo fa in larga parte tramite un paradigma ideologico ed estetico che si pone come tardo medievale o rinascimentale, dove questi due periodi rappresentano un'intensa affermazione storica di italianità. In questa prospettiva le compagnie di ventura rinascimentali diventano portatrici di un valore militaristico di cui il fascismo si pone come erede, traendo piene mani da figure percepite come eccezionali e virtuosamente spiccanti rispetto a una grande massa di gente comune che all'alba dell'età moderna aveva perso l'uso delle armi. L'immaginario del condottiero era stato popolarizzato dalla pubblicistica risorgimentale, dove questi duci diventavano veri e propri patrioti ante litteram. Francesco Saverio Grazioli, senatore e simpatizzante del fascismo, scriverà che il condottiero ha un aspetto barbaro, ma una mente degna di un romano e di italiano. Una serie di significativi rovesci militari, Novara 1849, Adua 1896 e Caporetto 1917, avevano cementato nell'immaginario comune lo scarso valore dell'esercito della nazione italiana, ma mentre già durante il primo conflitto mondiale i soldati che più emergevano tra le fila di combattenti erano appellati condottieri, con il fascismo la parola condottiero sarà associata al legionario per esprimere un nuovo tipo di moralità intraprendente e audace, basata sulla forza marziale. Ribaltata è la prospettiva degli intellettuali antifascisti. Gramsci rimanca come le condotte mussoliniane siano fuoriere di un atteggiamento reazionario. Piero Gobetti le descrive con tinte foschissime, mentre Giustino Fortunato, meridionalista, sottolinea l'affinità del fascismo a un'anacronistica organizzazione politica e militare. Da questo punto di vista le camicie nere rendono propria questa narrativa svilente, nella consapevolezza di agire con lo stesso animo che animava i capitani di ventura, immaginati come agenti di ordine autoritario nell'agitazione cittadina tardo medievale. Le immagini e le iconografie rinascimentali del fascismo affondano le loro origini nel testo di Jacob Brookard, pubblicato nel 1876 dal titolo La civiltà del rinascimento in Italia. Con questi occhi Mussolini viene rappresentato come un rifondatore dello Stato virile, autore del proprio destino e protettore delle arti. Giuseppe Portigliotti, con il suo Condottieri del 1935, dedicato al Duce, parlerà di Mussolini come un novello eroe dal sangue contadino, in continuità con la romanità del guerriero umile che si mette al servizio delle istituzioni e con i Condottieri rinascimentali. Con le biografie personali del Duce si insisterà ancora su questa sua associazione ai capitani. Nell'Uomo Nuovo di Beltramelli, Mussolini è collocato fra i Condottieri di Romagna. Margherita Sarfatti, pubblicando nel 1925 The Official Life of Benito Mussolini, poi tradotto in Italia con il titolo di Dux, associa il dittatore ai Capitani del Popolo del Trecento, ai Condottieri di Romagna che affrontano e sconfiggono il Partito Popolare. Mussolini viene rappresentato anche come dello stesso stampo del Colleoni. Il Condottiero per antonomasia della cultura popolare. Nel 1932 Emil Ludwig, giornalista tedesco, scriverà di aver avuto l'impressione, incontrando il Duce, di essere al cospetto di un Colleoni, di un Cesare Borgia o di un Federico da Montefeltro. Partendo da una base mitografica classico-romana, il condottierismo riesce ad emergere perché il capo tardo medievale viene direttamente associato ai grandi leader militari dell'età classica, riuscendo contemporaneamente a sorvolare su tutto quel periodo medievale poco affine alla retorica fascista, quello definito come delle piccole patrie, dove divisioni e ostilità fra aree locali rendevano un'immagine di un'Italia divisa e asservita vuoi dalla Chiesa, vuoi all'Impero. Sul mare, la mitografia fascista scommette sulle repubbliche marinare o sul dominio mediterraneo dei Romani, in quel mare nostrum, proiezione della volontà imperiale sia dell'Italia liberale sia del fascismo. Ho approfondito la questione in un altro video, che potete trovare in questo momento linkato in alto a destra. I rovesci militari della Seconda Guerra Mondiale sgonfiano il pallone della retorica militare fascista e la pubblicistica d'opposizione al regime è molto veloce nel ribaltare tutti quegli elogi che erano stati conferiti al nuovo condottiero di Romagna. Anche il suo epilogo a Piazzale Loreto diventa oggetto di una nuova pittura infamante del secolo ventesimo. Con la caduta del regime crolla quindi anche il condottierismo, che diventa ora oggetto di scherno da parte del mondo della cultura, fino a quell'apice rappresentato dallo sgangherato Brancaleone, cavaliere più illustre e più deriso. Questo breve video è frutto di una mia rielaborazione e di un riassunto di Condottieri in camicia nera, l'uso dei capitani di Ventura nell'immaginario medievale fascista di Davide Iacono. È disponibile in medievalismi italiani secolo XIX-XI, acquistabile al link in descrizione.